Musica Salve amici del Centrometro Italiano, alta pressione e rimonta nel corso del primo weekend del mese. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per domenica 5 maggio. Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino su tutte le regioni ed isolate piogge solo sulle Alpi Occidentali. Al pomeriggio poche variazioni con ampie schiarite ovunque ed isolati fenomeni al nord-ovest. In serata è notata ancora precipitazioni sparse sui rilievi nord-occidentali, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime, massime e stabili o un ulteriore rialzo su tutta la penisola. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centrometro Italiano. Grazie a tutti!